All'interno di questo cartellone di eventi guardate per l'Africa, giunto quest'anno 17esima edizione, l'associazione dei pensionati CISL ha deciso di organizzare questa mostra. Ecco, siamo in questa splendida cornice, ci racconta un po' quali sono i quadri, come è nata l'idea. L'idea nasce dalle nostre federazioni territoriali, soprattutto quella dell'Aquila, quella di Pescara, quella di Chieti, a cui si aggiunge poi anche quella del Molise, perché come sapete noi come federazione pensionale e come CISL siamo uniti a quella del Molise, quindi siamo Abruzzo-Molise. L'idea di fare questa mostra viene sia ai responsabili della FNP territoriale, che l'affidano però, per l'organizzazione, alle nostre associazioni di volontariato, che sono le Anteas. Abbiamo due Anteas a livello regionale, una per l'Abruzzo, che è l'Anteas-Abruzzo, e una per Molise, che è l'Anteas-Molise. Ci parli un po' della mostra? L'idea era quella di ripercorrere un attimino il percorso che ha fatto Pietro Celestino V, cercando di vederla con gli occhi dell'arte, il percorso che ha fatto Celestino V, e come diceva Ignazio Signone, l'avventura di un povero cristiano che da eremita diventa Papa, vista con gli occhi degli artisti fondamentalmente.